Favorire uno sviluppo sostenibile dei territori diversificando le modalità di valorizzazione della geotermia e ridurre al massimo gli effetti cumulativi degli impatti ambientali. Tutto questo grazie al coordinamento dei titolari di permessi di ricerca in materia di geotermia. Questi i contenuti del protocollo d'intesa che è stato firmato a Palazzo Strozzi Sacrati, la sede della Regione Toscana, con il Presidente della Regione Enrico Rossi e il Presidente di Rete Geotermica R.G. Gianni Gori. Questa è la novità, può scendere in campo per l'utilizzo della geotermia un nuovo soggetto diverso da Enel che si propone anche con intenti interessanti. Innanzitutto un tener conto delle condizioni anche circostanti, occupazionali, economiche, in modo che l'utilizzo della geotermia abbia ricadute positive per il territorio. Una geotermia che sia meno impattante, l'obiettivo è la media entalpia e anche questo è un punto che migliora sotto il profilo dell'impatto ambientale, gli interventi rispetto a quanto finora si è fatto. E poi questa rete di impresa che ha lo scopo, una rete di impresa italiana, di chiudere le filiere della geotermia. Noi avremmo bisogno anche di installare in Toscana, con l'obiettivo di sfruttare la media entalpia, un'industria che produce attrezzature e tecnologie per la media entalpia. E anche questo terzo aspetto è un aspetto fondamentale. Qual è il potenziale della geotermia in Toscana rispetto alla produzione totale di elettricità e quant'altro? Beh, ora, la geotermia in Toscana già lo dimostra quello che sta facendo l'Enel. Credo che la geotermia è importantissima nel rispetto di quello che sono tutte le risorse naturali che ci sono in Italia. Quanto è rispetto alle risorse numeriche dal punto di vista elettrico, credo che si parlerà di qualche punto percentuale. Però la cosa che credo che è più importante è una risorsa infinita, è una risorsa che non emette emissioni. E credo che quello che conta in un futuro dove stiamo andando, credo che avere un zero impatto generale, credo che sia la felicità più importante. Non conta nei numeri, ma conta la qualità del progetto. Rete geotermica ha in programma un investimento in Toscana dai 120 ai 150 milioni di euro nei prossimi tre anni. Le società in rete metteranno a disposizione il loro know-how e la Toscana, il suo territorio, che è la capitale mondiale della geotermia. È da tempo comunque che la regione investe nelle rinnovabili. L'accordo a Palazzo Strozzi Sacrate è il primo di questo tipo in Italia. Dunque un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo sostenibile.